Presidente, un altro tassale importante per la sanità maceratese e per le marche? Sì, una bella donazione della Fondazione Carima con una tecnologia a servizio di urologia. Veramente un apparato di ultima generazione, un laser in grado di migliorare di molto l'intervento, abbreviare l'adegenza e anche nel caso dei calcoli riuscire ad avere degli ottimi risultati. E' quello spirito di collaborazione fra soggetti che insieme possono raggiungere grandi traguardi. In questi anni abbiamo fatto molti investimenti nella parte sanitaria in termini di nuove tecnologie, circa 30 milioni nell'area vasta negli ultimi tre anni. A fianco di questi investimenti pubblici la presenza di donatori come la Fondazione Cassa di Risparmio che ha veramente offerto quel elemento in più, tutto a servizio della comunità. Per noi l'occasione è per ringraziare chi ha donato, ringraziare le persone che lavorano dentro questa struttura e mandare un messaggio molto positivo, ma che dentro i nostri spazi, grazie a queste nuove tecnologie, i nostri cittadini potranno avere risposte di salute di sempre maggiore qualità. Brava, grazie, brava.